Si allarga l'onda della protesta contro le misure del nuovo decreto firmato dal Premier Conte per contrastare la diffusione del coronavirus. Dopo le mobilitazioni organizzate a Napoli, Roma, Torino e anche in diverse città pugliesi come Bari, San Severo e Foggia, ieri è stata la volta di Lecce, dove tuttavia una manifestazione nata come Pacifica è degenerata in violenti scontri con polizia e carabinieri. In piazza ristoratori, baristi, partite IVA e più in generale il popolo di lavoratori che si sente maggiormente penalizzato dalle restrizioni contenute nel nuovo DPCM entrato in vigore ieri e che impone la chiusura dei locali entro le 18 e lo stop alle attività di cinema, teatri e palestre. Un appuntamento fissato attraverso i social network e le chat di WhatsApp. Il corteo, che avrebbe dovuto sfilare pacificamente per le vie di Lecce, è venuto a contatto con le forze dell'ordine dando vita a violente intemperanze avvenute nei pressi delle due piazze principali della città, San Toronzo e Mazzini. Degli oltre 200 manifestanti scesi strada, poche decine di persone hanno inscenato una protesta autonoma, forzando un blocco di poliziotti in assetto antisommossa e lanciando fumogeni contro gli uomini in divisa, come testimoniano le immagini pubblicate sulla pagina Facebook di Lecce Prima. La protesta ha fatto registrare momenti di tensione anche tra gli stessi manifestanti, la maggior parte dei quali volevano proseguire la manifestazione senza ricorrere alla violenza. Con un paio di cariche di alleggerimento, le forze dell'ordine sono riuscite ad allontanare i più scalmanati, riportando la situazione alla normalità. Il corteo è poi proseguito in maniera pacifica. Le indagini sugli scontri sono affidate agli agenti della Digos di Lecce che stanno acquisendo alcuni dei filmati girati in piazza. A breve potrebbero scattare i primi arresti.